signori oggi c'è il sole infatti abbiamo qua il wireless go è uscito il sole ieri billy ballo ci comunica che ha fatto gran neve e quindi boschetti a noi non ce ne frega un cazzo dello snow park e noi ci piacciono i boschetti e quindi niente ora testeremo le skills del buon bona in fresca sperando di non perderlo e di non andare a doverlo a cercare quest'estate spieghermi una splendida giornata tutti mai pass qui vero let's go signori magnifica giornatina di sole proprio una copiosa nevicata meglio di così si muore ora devo fare un video abbastanza cringe per le furivie di campiglio quindi se volete andare a vederlo andate sui profili instagram di my pass e della ski aria per vedere me che faccio questo video ok video fatto andiamo a vedere un po di fresca devo salire, devo salire, devo salire, sono salito e vai buono così che c'è il fondo e oggi ci divertiamo e oggi mi sa proprio che ci divertiamo ragazzi mi sa proprio che oggi ci ci diverte molto figo molto 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 figo oggi che giornata dove volete bello cuore bello cuore non è che faceva la canzone dei titani and I will always love you bellonia ah i l'ho preso dici bello dici non hai trovato per terra qual'è questa dici metta del mio attacco qualcuno invece dovete comprare le tavole che dico io quando c'è sconto eh magari quando c'è sconto qualche negozio che vuole sponsorizzarmi così diamo delle tavole serie a questi ragazzi si può avere grazie la mail è sempre in descrizione guardiamo cosa è successo qua allora qui si è spaccato perfetto perfetto ora vai in noleggio ti fai cambiare la tavola noi andiamo al fortino ok intanto ci rivediamo giù certo si può dire ora di qua ciao buona è stato bello è questo qua si 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 ho visto i tracciarli il weekend scorso il buona l'abbiamo abbandonato ovviamente non mi sembra un'ottima idea la tua bello intanto ovviamente copro dopo due piste è già morta figa devo stare ok io seguo la traccia dei miei due gnavi nella speranza che non si perdano eccoci ragazzi mi dispiace ma almeno fino alla pianta quella lì bisogna sganciarsi e camminare il benessere la situazione di benessere già fatto? ho riuscito a sganciare la tua casa va bene vieni qua io intanto continuo a camminare ora dimostrerò ai nostri amici da casa che anche in fresca gli step on si agganciano facilmente sempre se la tavola è messa in un punto come c'è un senso come a Cristo Comani se no col cazzo che va agganciato allora si è appoggiata a torre si è appoggiata a torre si è appoggiata a torre e io sono pronto ora vi metto i guanti Billy smetterà di disturbarci con le sue telefonate no no Billy non ti scusiamo eh no droppi in di Billy vai bene guarda ok ok andiamo di tirare andiamo di tirare superiamo colpi buongiorno giù di qui si si caro in mezzo alle piante in mezzo alle piante i cipollari è qua dove volevo arrivare vai che vi aspetto qui guarda qua torre adesso guarda ragazzi sverginiamo dove vogliamo perché sverginare è sempre bello no mi rifaccio no mi rifaccio siiii yuppi bacca è pesantissima vai 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 andate andate no Billy ahahahahah adesso ti faccio fare un fuoripista anche a te molto semplice sereno non stress perfetto Allora in fresca si sta, ginocchio dietro piegato, gamba davanti distesa, schiena dritta e usi il piede dietro come se fosse un timone di una barca, ok? Quindi pieghi semplicemente, stai come stai, piega il ginocchio dietro e vedrai che galleggi. Ginocchio dietro piegato, davanti disteso, proprio esatto così e vai in giù, stai più a destra così sei vicino alla pista, qualsiasi roba ti capiti. Esatto tu stai lì giù, fai quello, vediamolo, la sua prima fuori pista ragazzi, bravo, più dietro più dietro buona, esagera esagera proprio, ecco ecco così così, piano piano, vai vai buona perfetto, bravo, bravo, ci vediamo giù là. Stupendo! E io cammino, e niente, e ci tocca camminare. Prendi, poli bella fresca! Vai! Io troppo! Vai, vieni! Chi! Chi! Nooo! Metta con me! E di qua! Che storia! Ho visto, ho visto, ho visto! Ho visto proprio che mi hai saltato e mi sei passato due centimetri! Adesso ci possono andare in mare le spessi! Nooo! Aspetta! Questa è la canta! Fica bravo! Pausa! Nooo! 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 Nooo!